Ben ritornati ragazzi su FTS 2015 E su Capriolo Gamer 89 E' tempo di calcio un'altra volta Siamo pronti per giocare La fase 1 della Coppa Italiana Contro la Roma Siamo pronti per cercare il campo Coppa Italiana fase 1 ragazzi Andiamo subito in campo contro la Una fortissima Roma Ci vediamo in campo Grazie a tutti Una malattaca contro la Roma Grazie a tutti Grazie a tutti Palla battuta su di dalla Roma Pallo Andiamo a traversa Palla 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 pericolosa Palla pericolosa E' anche il campo lino giallo per Astoli E' il calcio d'angolo il calore mi insegna il primo gol vediamo che si fa pericolosa il primo tempo con il tagliare il vantaggio andiamo subito a fare dei cambiamenti in squadra del senati cambiamo con Balsano Marchioni con Avelar e Johnson continuiamo in campo con Avelar 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 facciamo ancora il calcio del rigore facciamo un go mette un uke Vedete su? La pinta Viva 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 Una desperata Spasante ragazzi Grazie. Partita finita ragazzi con il 2-1 del Cagliari contro la Roma. Bellissima partita del Cagliari che riesce a imponersi contro la Roma. Ci vediamo alla prossima partita sempre su CaprioloGamer89. Ciao a tutti ragazzi.